Al suono di una tromba bloccati con lo sguardo verso l'alto come ad aspettare qualcosa di spaventoso che arriva dal cielo. Non è la sceneggiatura di un film ma è stato il copione dei due flash mob che hanno animato Piazza della Signoria e Ponte Vecchio. Le statue umane si sono poi animate al secondo suono che ha segnalato l'arrivo di un gruppo di persone che indossavano magliette a comporre la scritta senza tomica. Un'iniziativa per sensibilizzare le persone sull'importanza del disarmo nucleare pensata in concomitanza con la mostra appunto senza tomica che fino al 31 marzo è ospitata in Piazza Mino a Fiesole. Una mostra ingresso gratuito organizzata dall'Istituto buddista Soka Gakkai nell'ambito di una campagna internazionale che sostiene l'elaborazione e l'adozione di una convenzione internazionale sulle armi nucleari per il disarmo nucleare totale. La mostra è già stata esposta in 26 comuni d'Italia e visitata da oltre 120.000 persone.